eric non sei emozionato sono arrivati sono bellissimi i nostri bambini dominic finalmente vi aspettavamo con ansia sono stati nove mesi molto lunghi hai ragione la spedizione era veloce due giorni molto lunghi ma è stato come se fossero stati nove mesi che c'è non puoi fare tutta questa confusione i bambini dormono cioè almeno credo hanno gli occhi sempre aperti potevamo prendere quelli con le palpebre che si aprono e si chiudono però eh costavano troppo però se ne stanno qui sdraiati quindi stanno dormendo che teneri quindi non puoi svegliarli ballando e facendo tutto questo baccano intesi ok ok scusami è che non ci sono abituato sai questa responsabilità essere padre tutto così improvvisamente oggi ragazzi è un giorno importantissimo perché oggi io eric impareremo ad essere dei perfetti genitori saremo una mamma e un papà fantastici infatti oggi per tutto il giorno ci prenderemo cura dei nostri bambini senza sbagliare nulla sarà facile dopo tutto ci prendiamo già cura di micia le cambi la lettiera metti croccantini le fai tante coccole guarda che non è proprio uguale tipo i bambini non hanno la lettiera hanno i pannolini vabbè però per il resto sono uguali ok ragazzi magari non saremo proprio bravissimi all'inizio ma oggi impareremo dopo tutto abbiamo l'istinto materno e paterno dentro di noi sì 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 ne sono sicuro sarò bravissimo ho sempre avuto l'istinto paterno ma se non sai prenderti cura nemmeno di te stesso ha sbattuto no non piangere piccolino ma per far sì che impariamo entrambi non ci aiuteremo avremo un figlio l'uno uno io e uno eric e vedremo chi sarà il genitore più bravo voi ragazzi lasciate like qui sotto a questo video se siete curiosi di scoprire che genitori saremo e iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi nulla e prima di iniziare secondo voi chi sarà più bravo mamma dominic o papà eric scrivetelo nei commenti è il momento di presentarvi mio figlio dominic posso svegliarlo direi di sì sono passate parecchie ore dal loro inizio del pisolino sveglialo delicatamente con dolcezza e piccolo e piccolo e piccolo piccolino di papà e dai svegliati che c'è piano piano devi prenderlo in braccio non si alza mica da solo ok eric e tu sei tu ok augusto cosa oh sì non ve l'ho presentato ecco lui è augusto mio figlio ciao non sa ancora parlare è piccolo faccio io per lui ciao sono augusto ti farai male al braccio eric mangio il latte con gusto eric devi tenerlo bene è piccolo e sai ieri mi sono fatto male al busto augusto io bene vedo che gli hai dato anche un nome ok si chiamerà augusto però cerca di essere più delicato eric te lo consiglio ehi piccolina vieni dalla mamma lei invece questa bellissima principessa si chiama penelope e mia figlia visto come si tiene un piccolo bambino eric devi sempre stare attento a tenere la testa guarda la fai appoggiare nel braccio e lo sorreggi va bene dominica dalla testa tengo la testa ok così va bene ma no l'altra mano eric devi sorreggerlo ma no eric devi abbracciarlo ma così gli fai male gli stai staccando la testa non capisco ok così e poi abbraccialo ok meglio di niente così così cullalo cullalo perfetto bravo augusto povero augusto meno male che è solo una bambola forse eric deve imparare ancora molte cose prima di prendere un vero bambino in braccio non pensate ma oggi siamo qui per questo hai parlato la mia piccola è sentito ha detto cacca no ha detto tata tata è piccola non sa parlare ancora tata ti ha presso per la tata ma no ha detto delle sillabe senza senso oh che carina ma non ho capito niente dominica come fai a capirla così ma eric è normale i neonati non si capiscono quando parlano devono ancora imparare a parlare per questo è più difficile devi capire i suoi bisogni che forza i bisogni non quei bisogni cioè sì anche quelli per quello devi cambiare il pannolino ma intendo che devi capire tutto quello di cui hanno bisogno anche se non sanno spiegartelo vero piccola oh mi sto mandando dei bacini sei sicura a me sembrava avesse la tosse no 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 perché piangi no 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 non piangere non piangere vieni qua si è tranquillizzata eh sì i neonati ogni tanto piangono e tu augusto cosa mi dici tua sorella penelope è piena di bisogni tu hai dei bisogni cosa ti ha detto cosa ma lo senti anche tu cos'è che dice eric riesci a capirlo ma eric forse il tuo gusto si sente un po male non riesce a parlare fa tipo il rumore di rotto oh no augusto sei rotto non preoccuparti vieni qui piccolina a tuo fratello forse servono delle batterie nuove augusto vedrai oggi ci divertiremo un sacco sei sicuro eric quindi possiamo lasciarti da solo io e penelope vorremmo andare a fare una passeggiata in giardino prendiamo un po d'aria fresca si puoi andare io ed augusto staremo benissimo ciao penelope ma smettila di farlo parlare non si fa fuori c'è freddissimo però il cappellino già ce l'hai servirà una copertina ecco qui ti avvolgerò nella coperta così o meglio così così non prenderai freddo oh un fagottino adesso andiamo piccola penelope si sta bene qui fuori vero piccola tranquilla questi cani che abbaiono sono lontani non preoccuparti oh no oh no oh no sta piovendo oh no ti ho fatto prendere delle gocce d'acqua adesso siamo al riparo scusa piccola augustino quanto sono felice di essere tu papà e chi è augustino di papà chi è augustino di papà chi è augustino di papà è bello saltare vero ti stai divertendo chi è augustino di papà chi è augustino di papà e chi è augustino di papà oh oh augustino ti sei fatto male perché questo tetto è così basso forse dovevo tirarti un po più piano comunque non preoccuparti nulla che un po di pomatina non può migliorare ok dov'è la pomatina vieni stai qui ok adesso siamo dentro è al calduccio possiamo togliere questa copertina così che cosa succede è la tossa oh no sta bruttissima che piccolina rimettiamo la coperta forza forza la coperta sì 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 non preoccuparti oh no cosa ho fatto forse non dovevamo andare a fare una passeggiata con questo tempo e adesso ti è venuto il raffreddore oh sono una madre terribile non devo gridare non devo gridare tranquilla 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 forza addormentati perfetto è passato il dolore sono un papà bravissimo tieni le disse consegnandole una spilla di diamanti e l'aiutata a puntarsela al petto ti piace questa storia vero è valida come documento di viaggio con questa spilla tutti i tuoi spostamenti tra i regni leggendari sono consentiti è il nostro libro lo abbiamo scritto noi sì proprio io tua mamma insieme a tuo papà piccola penelope vabbè continuiamo domani col prossimo capitolo chissà adesso eric cosa sta facendo insieme ad augusto andiamo a dare un'occhiata dai piccola vai 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 così così in testa così lo elimini bravo sì sì super mossa finale e oh oh guarda 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 che succede adesso ehi eric come va che state facendo stiamo giocando ai videogiochi è un momento papà figlio ci stiamo divertendo vedi si è spappolato cosa ha fatto oh eric che c'è ma quel gioco non è un gioco adatto ad un bambino così piccolo ma sei impazzito non leggi sulla custodia prima di metterlo il piccolo augusto avrà sienno quanto c'ha dieci anni ma va dieci mesi forse e qual era l'età scritta sulla custodia per questo videogioco non lo so l'ho persa la custodia te lo dico io non adatta a lui non puoi farlo giocare con videogiochi pericolosi o spaventosi o per adulti lui è piccolo potresti spaventarlo hai ragione ok cambieremo gioco niente spappolamenti per oggi ok niente spappolamenti ti sei spaventato mi sembra tranquillo piuttosto stavo pensando hai pensato a quel piccolo problemino di augusto con la voce e sei suo papà devi prenderti cura di lui magari ha bisogno di qualcosa magari ha mal di gola oh sì 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 ci penso subito tu stai tranquilla divertiti pure con penelope ok vai 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 andiamo piccola adesso dobbiamo fare qualcos'altro e dai rispondi pronto signor dottore logopedista si aspetta aspetta augusto papà ha il telefono si guardi io chiamo perché ho un problema no io mio mio figlio augusto ho un problema il mio bambino augusto non parla niente non dice nulla anzi fa tipo rumori rumori di radio rotta tipo cose del tipo così si cosa lo porto domani e le fa una vista ok augusto domani andiamo dal logopedista ok 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 ah un'ultima cosa mi scusi eh ha battuto la testa nel tetto da solo può essere un problema cosa ma no sto scherzando ma può mai essere no 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 è tranquillissimo augusto tranquillissimo non è successo assolutamente niente adesso devo lasciarla arrivederci augusto ma che combini ma perché cadi sempre augusto devi stare fermo altrimenti ti fai male tu sei piccolo ancora non lo sai nella vita si cade spesso io sono caduto tante volte eppure sono cresciuto sano guardami è arrivato il momento più bello quello della pappa ovviamente che hai detto pappa ha detto pappa oh sì piccola hai fame andiamo a mangiare eccoci qua questo ti piacerà tantissimo adesso fai forse è troppo grande ok ne prendo di meno così forza adesso fai conferma è buono ciuffa arriva altro boccone in arrivo lo sapevo che ti sarebbe piaciuta e adesso bevi un po' d'acqua dai piccolina brava così è importante bere e adesso che abbiamo finito la pappa è il momento del ruttino sei pronta ti metto così ti appoggio sulla mia spalla e camminiamo un po' forza fai un ruttino dai dai sto aspettando è importante fare il ruttino prima di addormentarsi intendo per una bambina piccola come te cos'è che hai detto hai fatto ruttino brava e adesso che altro si fa con una bimba così piccola un momento ma eric ha dato da mangiare ad augusto ehi eric ma ma un momento anche tu micia ma ehi penelope mi sa che qui dormono tutti oh come sono carini eric si è addormentato abbracciando suo figlio che anche lui sicuramente dorme anche se ha gli occhi spalancati oh ma quanto sei carina tu ma in che posizione dormi che bel quadretto che bella famigliola io non ho visto cosa ha fatto oggi eric con augusto ma penso proprio che sia stato un bravo papà certo ci sono ancora tante cose da imparare da migliorare ma penso se la sia cavata voi che l'avete visto che cosa ne dite eric è stato bravo avrà combinato qualche guaio e adesso che faccio dovrebbero mangiare ma magari li lascio dormire ancora un altro po' anzi penelope è arrivato il momento del riposino anche per te forza vado a metterti a letto d'insieme 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 d'insieme